amiche amici di passione taranto allora eccoci agli ultimi minuti di tarantolatina niente colpo di testa di fabbro ma stiamo creando qualcosa agli ultimi minuti risultate 1 a 1 che dire non è stato un bel taranto ora dire che si è soddisfatti di questa prestazione mi sembra mi sembra troppo va bene diciamo che ce la giochiamo anche se siamo stati fortunati ad avere l'espulsione di petterman nel latina che era l'uomo squadra l'uomo squadra della tina quindi loro chiaramente ora c'è una un uscita un po l'arbitro l'arbitro è molto così molto circense oggi c'era un rigore secondo me su giovinco era rigore a noi ce l'hanno dato a giuliano questo sul tiro di giovinco non ha visto il fallo di mani ma che dire taranto che insomma sia giuliano eravamo abbastanza soddisfatti della prestazione oggi credo che non si possa essere soddisfatti qualcuno ha giocato un po peggio garau per esempio non ha confermato la buona impressione fatta giuliano i nuovi zigoni e si ha fatto gol al certa l'attaccante non gli puoi chiedere non gli puoi chiedere di più però a zigoni bisogna mettergli più palloni in area di rigore sicuramente poi è grosso non era in condizioni ha giocato tutti i 90 minuti perché praticamente ha giocato tutta la partita e ora però stiamo rischiando c'è una punizione per il latina e insomma è una squadra che deve lottare deve lottare si deve faremo fatica a salvarci ma è niente che dire allora su qualche su qualche su qualche singolo c'è da dire scusate cioè voggan è veramente cioè io penso che gautieri capisce di calcio perché voggan 20 minuti l'ha fatto giocare 20 minuti non è pronto per giocare in serie c assolutamente cioè se è quello che ha fatto vedere oggi non può giocare mai giovinco deve entrare in condizione zigoni deve entrare in condizione ardizione bene devo dire la verità materia molto nervoso non si è capito il perché è bene ha fatto gautieri a toglierlo però niente non non riusciamo a indirizzare i tiri su qualche calcio di punizione come in questo caso punizione per noi laterale vediamo se può succedere qualcosa niente non succede niente stiamo cercando mancherà una manciata di secondi alla fine ma diciamo che vabbè abbiamo mosso la classifica non c'era da aspettarsi tanto non c'era da aspettarsi tanto da questo tanto certo dopo essere passati in vantaggio avevamo fatto la bocca buona abbiamo preso un gol evitabilissimo perché su un cross dal fondo che attraversa tutta l'area la palla fa 30 metri e non c'è nessuno che va incontro a contrastare il giocatore della tina e però siamo ripeto siamo stati fortunati perché in undici contro undici stavamo soffrendo parecchio niente gautieri ha detto che tra dieci giorni tra dieci giorni saremo saremo più squadra speriamo attenzione ora in latina all'ultimissimo minuto è finita è finita direi fortunatamente fortunatamente perché oggi il taranto ha sofferto il taranto ha sofferto giocato bene venti minuti abbiamo fatto con la prima azione bene zigoni che ha saputo sfruttare l'unico cross buono di mastro monaco poi ne ha messi altri dieci che insomma il mastro monaco ormai lo conosciamo da anni ripeto grande impegno ma niente c'è da rivedere tante cose ecco ci sono da rivedere tante cose a bene all'esordio papazzo bene all'esordio papazzo ma niente insomma è un taranto da rivedere al completo con una migliore condizione atletica perché oggi abbiamo sofferto tanto probabilmente io spero che magari cautieri ha forzato molto nella 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 preparazione atletica magari è stata una settimana impegnativa magari la prossima prossima partita potremmo essere meglio dal punto di vista atletico andremo tra l'altro a messina che è uno scontro diretto un altro scontro diretto perché secondo me oggi era uno scontro diretto e va bene prendiamoci questo punto in teoria dovremmo essere a meno 5 stando alle voci diciamo abbiamo preso il primo punto vedremo che cosa che cosa succederà se arriverà all'ultimo momento qualcuno anche se possiamo prendere gli svincolati niente e comunque voi nel dubbio iscrivetevi al canale è sempre forza tardo